Mark Twain ironicamente diceva solitamente mi servono tre settimane per preparare un buon discorso improvvisato. Non penso fosse solo eronia, in realtà questo è uno dei paradossi del public speaking, si può improvvisare solo se ci si prepara veramente bene. Per questo, conducendo noi corsi sul public speaking da quasi dieci anni, sette otto anni fa abbiamo ideato uno strumento, uno strumento infografico che noi chiamiamo speech project system, è un foglio che si chiude su se stesso e che aiuta, guida nella progettazione di discorsi da tenere in pubblico che possono risultare efficaci, eleganti, coinvolgenti e di impatto. In cosa consiste? È un foglio dove la prima parte ci guida nell'analisi del contesto, del pubblico, dello speech da sostenere, le due pagine interne che poi in realtà è una pagina unica, ci guida nella progettazione dello speech dall'inizio fino alla fine, fino al raggiungimento degli obiettivi e nella parte finale invece ci invita a fare una valutazione, un'autovalutazione della nostra performance oratoria. Un approccio progettuale che supporta nel definire i contenuti degli speech e, come diceva Twain, solo la migliore progettazione probabilmente ci permetterà di improvvisare. Quindi il mio invito è a scoprire gli obiettivi di apprendimento del videocorso e il programma didattico per poi valutare se iscriverti a questo videocorso. Stiamo parlando di un'ora e mezza, un'ora e quaranta di contenuti video, di 23 video lezioni in cui scopriamo il modello in ogni dettaglio, in cui forniamo anche materiali didattici in pdf stampabili e lo speech project system, quindi questo foglio che va stampato a fronte reto in doppia versione tra l'altro, in versione bianca o in versione con dei contenuti stampati in filigrana grigia che ci suggeriscono strada facendo i contenuti che potremmo inserire durante la nostra progettazione. Mi auguro di vederti dall'altra parte del videocorso. Buoni discorsi in pubblico e buon speech project system.